L'analisi politica, critica, non può essere limitata agli altri. Prendo un esempio più grossolano. È possibile che il berlusconismo sia finito? Non lo so, è anche possibile. E finisce in grosse difficoltà, però forse finisce. Ma cosa vuol dire se finisce il berlusconismo? Vuol dire che finisce un'esperienza solo di Berlusconi e dei suoi amici? O vuol dire che finisce anche qualcosa di nostro? Io credo che noi dobbiamo pensare che il periodo che viene dopo il berlusconismo ci riguarda anche noi. Anche noi dobbiamo ripensare a cosa siamo veramente. Non ci basta essere contenti del nostro passato. Dobbiamo ripensarci.